L'uomo più pesante della storia. John Brouwer Minnock è stato un cittadino statunitense noto per essere considerato, con i suoi 630 kg di peso massimo registrato, come l'uomo più pesante di tutti i tempi. Il peso di Minnock continuò ad aumentare costantemente fino al suo ricovero in ospedale nel marzo 1978, all'età di 36 anni, a causa di un'insufficienza respiratoria. Nello stesso anno batte il record di maggior differenza di peso tra una coppia sposata quando sposò la moglie, che pesava 50 kg. Al momento del ricovero in ospedale l'endocrinologo Robert Schwartz stimò che pesasse più di 635 kg e che gran parte della sua massa corporea fosse costituita dai fluidi accumulati. Il trasporto di Minnock fu estremamente difficile, ci vollero più di una dozzina di vigili del fuoco e personale di soccorso e una barella appositamente modificata per trasportarlo. Li fu sistemato su due letti accostati e ci vollero 13 persone per girarlo per i cambi di lenzuola. Morì il 10.